Ciao a tutti, vediamo come creare un canale di solo annunci o di sole notizie su Discord, ovvero un canale come quelli Telegram, dove solo noi proprietari possiamo scrivere e gli altri possono solo leggere senza rispondere. È veramente facile, ci basta innanzitutto attivare la community, quindi andate su impostazioni del server e assicuratevi qua in basso dove c'è community di avere tutte queste cose qua, altrimenti vi dirà attiva community. Se non sapete come attivare una community c'è il mio video sul canale, vi basta cercarlo, è veramente molto semplice. Comunque una volta che avete tutta sta roba qua, torniamo indietro e ci basta andare a creare un nuovo canale, vedete? Crea canale e noi abbiamo canale delle notizie, eccolo qua, un canale testuale che può pubblicare contenuti sul server che lo seguono, quindi le persone vanno poi a seguirlo e gli arriverà la notifica specifica per quel canale. Quindi nuovo canale lo chiamiamo banalmente annunci. Ok, quindi creo il canale e guardate un po', abbiamo il nostro canale. Vedete che l'icona è totalmente diversa, giustamente qua ci dice annunci e l'ho chiamato annunci, ma questa è l'icona degli annunci, questa vedete sotto è l'icona della voce, però vedete che è la A con la maiuscola, la mia è con la A minuscola, quindi è effettivamente un canale di annunci che io ho chiamato, non vedete un po' quanto sono originale, annunci. Quindi quando andrete qua a scrivere, tutte le persone che seguono il canale, vedete che c'è qua il tasto segui, quindi tutti quei canali Discord e quelle persone che seguono il canale andranno a ricevere le notifiche. È veramente facile, se avete altre domande per quanto riguarda canali Discord, server e discorrendo, fatemelo sapere sotto nei commenti che andiamo a fare un tutorial specifico. Io vi ringrazio e alla prossima, ciao ciao!